Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In a 11, mercoledì 26 giugno, in orario 22.6, sarà chiuso lo svincolo di Montecatini Terme in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. A Firenze, da domani lunedì 1 luglio fino al 16, chiusa per lavori via Bolognese tra Via della Pietra e Via di Montughi. Successivamente, dalla fine del mese di luglio fino al 10 settembre, rinnovato l'acquedotto nel tratto compreso tra il civico 102B e l'incrocio con Via di Montughi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!